Siamo a San Silvestro, per meglio dire a Colle Renazzo, il cuore dell'incendio di ieri che ha fatto vivere ore drammatiche la città di Pescara. Siamo con il sindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci che ieri si è precipitato appena scoppiato questo incendio qui a San Silvestro. Davvero ore drammatiche quelle di ieri, ore e ore di lavoro per i vigili del fuoco. Sono state evacuate delle abitazioni, ci sono stati anche dei leggeri intossicati, ma sono state ore davvero difficili quelle vissute ieri pomeriggio. Sì, ore difficilissime perché noi aspettavamo la pioggia ieri, invece è arrivato il fuoco che ha coinvolto una zona di un pregio ambientale incredibile, la zona di Colle Renazzo, la collina di San Silvestro che è stata colpita in maniera drammatica, abbiamo vissuto veramente momenti difficili. Io sono stato quattro ore sul posto per cercare di organizzare anche l'evacuazione, garantire i rifugi per la notte alle persone che dovevano dormire fuori casa. Abbiamo vissuto momenti difficili. Devo dire che i vigili del fuoco sono stati encomiabili, ma non soltanto loro, perché la Polizia Municipale in forza è stata sul posto, così come i carabinieri, così come la Polizia di Stato. C'era una presenza forte dello Stato, delle istituzioni, hanno comunque tranquillizzato i cittadini, anche loro sono stati assolutamente pronti al momento difficile. meno male che non ci sono state vittime, che non ci sono state situazioni di danneggiamenti di abitazioni. Purtroppo il patrimonio ambientale è andato distrutto, ci auguriamo di recuperarlo in breve tempo, ma sarà difficile. Ma noi faremo tutto quello che è necessario per recuperare questo patrimonio, che è un patrimonio della città e non soltanto di pescare. Probabilmente è ancora presto, ma ovviamente bisognerà indagare e capire le cause di questo incendio. Non è ovviamente compito dell'amministrazione comunale, del sindaco, ma della magistratura. Potrebbe esserci il rischio che ci sia stata la mano dell'uomo dietro questo incendio? Da questo punto di vista non ho sentito ancora nessun intervento da parte delle forze dell'ordine, nel senso che nessuno si è sbilanciato. Certo è che se ci fosse stata la mano dell'uomo bisognerebbe veramente punire queste persone pesantemente. Siamo con il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara per fare il punto su quello che è accaduto nelle ultime ore a San Silvestro di Pescara, questo vasto incendio, comandante, che è stato definitivamente domato. Sono stati fatti non so quanti lanci, è stata fatta una ricognizione di tutta l'area e quindi si è visto dove localizzare i lanci. Non ci sono più fogolai, però ci sono i fumaioli e questo è indice del fatto che esistono delle braci, soprattutto nelle aree in cui ci sono gli aghi di pino, si chiama tecnicamente lettiera, che può arrivare in queste zone a 5, anche 10, 15 centimetri di spessore, per cui c'è una combustione lenta covante. Diciamo orientativamente abbiamo 8-10 ettari, però c'è un funzionario che sta facendo la ricognizione dell'area, che poi verrà riportata su Mappa. Per chiudere, comandante, la Polizia di Stato sta lavorando sulle cause, è troppo presto per fare delle ipotesi? Sì, diciamo abbiamo avuto delle interlocuzioni con la Polizia, la squadra mobile sta facendo le opportune verifiche.